Siamo con Adriana Santacroce, un volto noto del giornalismo televisivo e infatti se si fa una ricerca sul web, il tuo nome Adriana è associato tante volte alla realtà televisiva lombarda e non solo. Allora possiamo andare indietro e capire come mai arrivi in televisione perché la tua formazione, la tua preparazione era fatta per entrare in un mondo particolare con la filosofia e il mondo dell'insegnamento. Che cosa ti ha fatto cambiare? Io ho insegnato filosofia al liceo per sette anni, poi avevo i pomeriggi liberi e sono diventata giornalista scrivendo sul Corriere della Sera e poi ho mandato qualche curriculum alle tv locali pensando un po' anche come passare il tempo, non è che fosse proprio un'idea precisa. Mi hanno chiamata qui, ho fatto uno stage qui e mi sono innamorata, è stato proprio un innamoramento. E che cosa ti ha colpito del mondo televisivo da restare così coinvolta da questa realtà? Ma forse la capacità, la possibilità di mettere insieme le immagini col testo, di sintetizzare in pochi secondi un'idea, un concetto. Io insegnavo quindi il concetto di trasmettere le idee ce le avevo già, però quindi spiegare a dei ragazzi diventava spiegare al pubblico che ci ascolta, quindi era un po' un mutuare quello che facevo già ma in maniera molto più bella, molto più ricca. Mi si è aperto un mondo che non conoscevo dall'interno e quindi appunto ho fatto questa scelta di vita. Ti ha interessato, ti sei lasciata coinvolgere e poi che cosa hai trovato anche diverso da quello che ti aspettavi in questo mondo? Diverso da quello che aspettavo? Ma io in realtà non mi aspettavo niente perché è stata una cosa che è avvenuta poco alla volta, perché prima sono partita facendo i servizi per il telegiornale, poi ho cominciato a collaborare con il programma che adesso conduco, che è Linea d'Ombra, facendo i servizi anche lì. E poi ho cominciato a condurre un programma io quindi a contattare gli ospiti, il mondo della politica e quello che è stato bello è stato fare un passo alla volta, perché facendo un passo alla volta scopri delle cose che prima non conoscevi, però ogni cosa che facevo per me era nuova e quindi era bellissima. E forse anche il mondo della televisione ha avuto un'evoluzione particolare, nel senso che è diverso dal mondo che hai trovato, forse adesso le cose sono molto cambiate e ti ritrovi anche in questo mondo televisivo che ha anche un modo leggermente diverso di porsi a chi ci ascolta, a chi ci vede. Che cosa senti di questo cambiamento, che cosa ha portato anche nel tuo modo di rivolgerti al pubblico? Ma è più veloce il modo di adesso, perché quando sono arrivata io anche le trasmissioni erano più lente. Le trasmissioni, il talk show durava due ore, sempre con gli stessi ospiti e adesso è tutto più veloce. Con l'avvento dei social anche le trasmissioni si fanno degli argomenti, poi si cambia. La cosa in cui mi ritrovo è che adesso gli ospiti li interrompi se parlano troppo, ma adesso è più normale interromperli. Forse qualche anno fa erano più abituati a sbrodolare un po' quando rispondevano, soprattutto i politici. E quindi in questo sicuramente è meglio. Ecco, la velocità, la comunicazione più rapida e più sintetica a me piace molto. Cioè il fatto di esprimere magari un concetto più ampio in poche parole e per farlo capire. E il pubblico è chi ascolta, chi interagisce anche nelle tv locali, nelle tv legate a una regione. In particolare c'è questo rapporto diretto con il pubblico che telefona, che cerca di interagire. Cosa riesci a trasmettere a questo pubblico e cosa ti aspetti che loro percepiscono dal tuo lavoro e dalla tua professione? Ma noi cerchiamo di fare servizio il più possibile, quindi di dare informazioni che possano aiutare chi ci guardano. La forza della tv locale è proprio questa, cioè il fatto di parlare con la gente, cosa che nelle tv nazionali non si può fare. Io spero di dare conforto a chi magari si trova a casa da solo, quindi di fare compagnia in qualche modo a chi ci guarda e magari anche di dare delle informazioni che possono essere utili per la propria quotidianità. Approfondiamo questo, cioè il tuo ascoltatore, telespettatore tipo, come è fatto? Nel senso quando tu guardi nella telecamera, chi vedi dentro? Che cosa pensi che ci sia al di là? Io penso che ci siano delle famiglie, delle persone di media cultura che sono interessate alla politica, ma che vogliono capirla in termini semplici, che vogliono capire esattamente cosa fa il governo della città o del governo nazionale e che cosa fa l'opposizione, ma che voglia capire, ripeto, in termini semplici e concreti quello che sta succedendo. Non tutti leggono i giornali purtroppo, non tutti sono acculturati e quindi penso che il nostro compito sia quello di rendere semplice e accessibile anche la politica, quindi di divulgarla, che era quello che facevo quando insegnavo in fondo. Cercavi di rendere anche una realtà intellettuale come la filosofia, che quando si dice filosofia si pensa sempre a dei concetti un po' difficili da sviscerare, da rendere poi usufruibili. Pratici, io insegnavo a dei ragazzi che recuperavano un anno e quindi ai ragazzi che facevano due anni in uno, quindi era anche complicato fare il programma di due anni in un anno solo, quindi dovevi semplificarlo e la sfida era farglielo capire, però io ho avuto tantissime soddisfazioni, tantissimi ragazzi che poi mi hanno detto finalmente ho capito e questo per me era una grande soddisfazione. essere riuscita a compiere quello che dovevi realizzare e in tv è la stessa cosa, hai dei momenti in cui ti senti realizzata in quello che fai? Beh, quando magari riesci a strappare a qualche politico qualcosa di nuovo, quello è il bello, no? Quando riesci a fargli fare una dichiarazione che magari non ha fatto, magari lo porti a dire qualcosa, magari uno dell'opposizione che fa un complimento a uno della maggioranza, ecco io lì mi diverto molto quando riesco a strappargli, allora quindi questo tizio ha ragione, e beh sì ha ragione, ah l'ha detto, quindi questo a me piace questo giochino. Allora c'è una commissione che deve essere una commissione importante tra il lavoro del giornalista, di una conduttrice come giornalista, come te e il mondo della politica, ecco anche questo penso che ha avuto un'evoluzione, è cambiato lungo il tempo, ecco come ti ritrovi? riesci facilmente a fare, a tenere i contatti come una volta, oppure adesso il mondo è cambiato e anche il rapporto giornalista-politico è diventato più difficile o più facile? No beh, col passare degli anni diventa più facile perché con alcuni si crea un rapporto, e quindi anzi ci sono dei politici che sono diventati anche famosi, l'attuale presidente del Senato, la russa, lo conosco da tantissimi anni, gli ho mandato un messaggio l'altro giorno, mi ha risposto, quindi questo è piacevole quando hai delle persone con cui si crea un rapporto e anche se diventano molto importanti continui ad averlo. Mi ricordo che una volta era venuta qui un ministro, che era l'ex ministro Toya, io conducevo per le prime volte, sono andata ad accoglierla e lei mi ha detto, chi conduce? E quando le ho detto io è rimasta così, perché ero giovane, una donna giovane e si aspettava di trovare un uomo in giacca e cravata, ha visto me, ed era rimasta un po' delusa secondo me, è una cosa che da una parte mi dispiaceva, dicevo ma come, dall'altra poi però mi sono guadagnata la stima, perché quando ti vedono magari giovane, donna, non credono tanto alla tua professionalità, adesso questa cosa non sono più tanto giovane, quindi... Un problema è superato, però il fatto di essere donna e di essere anche coordinatrice di una redazione, avere la responsabilità anche con i tuoi colleghi di decidere, di pensare cosa fare, come far passare certe idee, ecco questo come lo vivi? Eh, quello è già più complicato perché si tratta di convincere le persone, da una parte le persone a cui dico le cose devono farle le cose, però io ho sempre questa idea che forse è sbagliata, che le devono condividere, ed è probabilmente un mio limite caratteriale, perché forse bisognerebbe imporsi e basta, fai questa cosa e punto. Non la vedi invece come una ricchezza, oggi si parla molto di empatia, cioè tu puoi entrare in rapporto con gli altri per poter costruire insieme. Sì, io ne ho troppa, io ho bisogno del rapporto umano con le persone con cui lavoro, proprio mi rendo conto che se non ce l'ho ci sto male, e quindi questa è una cosa, tu dici che è una ricchezza, a me sembra un limite a volte, perché se non ce l'ho mi sento limitata e ci sto male, invece mi piacerebbe avere sempre questa empatia con tutti, però mi rendo conto che non è possibile, perché ognuno di noi ha il suo carattere, ognuno di noi ha i suoi limiti, quindi devo imparare questa cosa, non l'ho ancora imparata. E quindi una redazione, soprattutto a livello televisivo, come si gestisce? Ci puoi raccontare un po' la tua esperienza di ogni settimana, ogni giorno, cosa fai per tenere insieme tutto quello che una televisione deve produrre e deve poi anche stare al passo con i tempi che cambiano, ogni giorno c'è una notizia nuova, una realtà nuova che deve entrare nel palinsesto, nella modalità di espressione, tu come ti organizzi? E poi oltretutto noi ci occupiamo di tantissime cose, quindi adesso abbiamo parlato di politica, ma una bella fetta di Telenova, delle televisioni locali, lo sport, il calcio, quindi questo io lo lascio gestire a chi si ne occupa direttamente, però lo devo coordinare, quindi anche lì bisogna sempre avere l'occhio vigile e vedere che tutto vada bene, che le notizie vengano prese in maniera corretta, che vengano riportate e quindi bisogna controllare però senza essere troppo invadenti, l'obiettivo mio è questo, verifica, controlla ma non invadere lo spazio. Quindi sapere quello che è deciso, seguirlo ma poi lasciare a ciascuno la responsabilità di realizzare. Sì, esatto, e poi però se questo qualcuno sbaglia qualcosa, intervenire ovviamente, se me ne accorgo prima è meglio. Allora andiamo a cogliere magari qualche ricordo nel passato, qualche esperienza veramente negativa di qualcosa che hai vissuto, hai preparato e poi non è andata come volevi. No, una volta sono stata denunciata. Addirittura. Sono stata denunciata perché durante linea d'ombra, in campagna elettorale, quando ci sono tutte le regole molto rigide della Parcondicio, c'era un esponente di un partito minore, io non mi ricordo cos'era successo, però gli avevo fatto una domanda un po' provocatoria e io gli avevo detto qualcosa tipo, ma lei mica penserà di vincere le elezioni, perché era un partito dell'1% e lui mi ha risposto, lei mica penserà di vincere Miss Italia, ma non c'entrava niente. comunque questo poi ha denunciato l'emittente per mancanza di Parcondicio, siamo andati davanti al Corecom. È invece un momento esaltante della tua carriera televisiva? Forse quando ho intervistato Prodi o anche quando ho intervistato Berlusconi, che sono forse i personaggi più noti che ho intervistato. Prodi è venuto qua ed è stato molto bello, molto emozionante. Poi un'altra volta l'ho intervistato a Cinisello, è stata un'intervista molto arricchente, perché poi è una persona empatica, Prodi è una persona molto empatica, quindi è stata una bella intervista a 360 gradi. Berlusconi sono andata ad Arcore perché lui non si muove quasi mai, faceva andare nella nella sua villa e anche quella è stata un'esperienza, perché insomma o lo ami o lo odi, ma è sempre Silvio Berlusconi, quindi è un personaggio anche lui preparatissimo, che ti accoglie con la cartelletta, sa tutto di te, è stato bello anche quello. Bene, terminiamo una prima parte, poi approfondiamo ancora la conoscenza di Adriana Santa Croce. Riprendiamo il dialogo con Adriana Santa Croce in questo testa e cuore, che vede in gioco la sua professione e il suo essere così davanti alle telecamere quasi tutti i giorni. Come ti pesa il dovere entrare tutti i giorni nelle case di chi ti guarda? Ma quello non mi pesa, pesa per una donna soprattutto il fatto di dover essere sempre in ordine, quindi quello di doversi sempre curare, però da una parte è un peso, dall'altra è un arricchimento, perché ti permette di rimanere più in forma e quindi a volte mi ritrovo con delle amiche della mia età che mi dicono ma tu come fai a essere sempre così, perché probabilmente è il lavoro che anche ti spinge a cercare di essere sempre gradevole, proprio perché entri nelle case delle persone, quindi non puoi entrare in maniera disordinata o sciatta, deve entrare in maniera presentabile. E quindi questo ti permette poi anche di rivederti, che effetto ti fa per rivedere le tue trasmissioni? Non mi sopporto, non sopporto me, non sopporto la mia voce, non sopporto niente, come mi muovo, niente, non voglio guardare, anzi quando mi guardo poi cerco di ricordarmi cosa non devo fare, ma poi immancabilmente me lo dimentico. E quindi questo ti aiuta a migliorarti? Eh sì, sì. Nel senso ti poni degli obiettivi, riesci a cogliere qualche aspetto del tuo modo di essere davanti alla telecamera? Che non mi piace e che voglio cambiare, poi però a volte ci riesco a volte no. E in che cosa sei riuscita a migliorarti secondo te? A sorridere di più, perché secondo me se sorrido vengo meglio e poi comunico più serenità e a volte mi ingrugnisco, allora poi quando mi guardo mi dico sorridi di più e infatti lo dico anche a tutte le ragazze nuove che vengono, la prima cosa che dico è sorridi davanti alle telecamere proprio perché entri nelle case delle persone e devi entrare sorridendo, penso che sia fondamentale. Bisogna portare un sorriso e portare anche un contenuto che porti alla leggerezza, questo è un po' una difficoltà a volte della televisione, interpreto io e magari tu mi aiuti a capire di più, si arriva in casa e si deve portare un po' di leggerezza, un po' di gioia, un po' di sollievo magari anche in situazioni difficili, come si può fare questo quando magari si è obbligati a dare notizie un po' pesanti, parlare di politica che è un po' la stessa situazione che si ripete sempre? Tu come cerchi di far uscire qualcosa di buono anche in queste situazioni? Io lo dico anche ai ragazzi che fanno lo sport e ai colleghi che fanno lo sport che noi dobbiamo sempre dare i nostri contenuti, li dobbiamo dare con competenza perché siamo giornalisti, con garbo, quindi questa è una caratteristica nostra di non urlare e con allegria, cioè queste tre caratteristiche, garbo, competenza e allegria secondo me sono le caratteristiche nostre e quindi anche quando facciamo la politica cerchiamo di fare un sorriso, di fare una battuta, di scherzare anche un pochino con i politici, di non essere troppo seriosi, è chiaro che a volte gli argomenti ti impongono quando abbiamo fatto più di non so quanti mesi col Covid, noi lavoravamo lo stesso, però lì di sorridere c'era ben poca voglia, però abbiamo sempre cercato di smorzare un po' perché ripeto io credo che il nostro obiettivo sia quello di rassicurare anche un po' chi ci guarda, non di allarmarlo ma di rassicurarlo e di dire ci siamo qua noi e cerchiamo di contenere anche un po' le ansie e le angosce. Torniamo un po' sul tema della politica che ti ha visto sempre un po' interlocutrice, privilegiata anche nei cambiamenti, nelle situazioni che sono andate via via trasformandosi, hai visto passare generazioni di politici, nel senso che qualcuno è rimasto, qualcuno è scomparso, ecco chi secondo te, quali sono le caratteristiche di un politico che riesce bene anche in tv e quindi forse può rimanere più a lungo anche nel lagone politico? Allora io devo fare subito una distinzione che si è confermata negli anni che quello che adesso non voglio sembrare una che generalizza troppo, però in base a tutte le mie esperienze, i politici di centro-destra sono più simpatici, sono più affabili, hanno più capacità di comunicazione, sono più educati, ti ringraziano quando li inviti e ripeto non è assoluta come categoria, però è quasi sempre così, quelli di sinistra spesso sono più con la pulsa sotto il naso, si attirano un po' se si può dire a quest'ora e quindi anche più, poi con alcuni di sinistra ho anche degli ottimi rapporti, è per carità, però è sempre più complicato e sembra sempre un atto dovuto verso la maggior parte degli ospiti di sinistra, invece quelli di destra, ripeto, secondo me hanno una capacità innata di stare con gli altri, di dialogare, di porsi al livello degli altri, c'è un po' una sorta di superiorità morale in una bella fetta di esponenti di sinistra che li porta ad avere questo atteggiamento un po' spocchioso, non tutti, per carità, adesso se mi stanno guardando, non tutti, però una buona parte sì. Ma tendenzialmente tu fai passare tutti con una par condicio generalizzata. Perché se non c'è la par condicio faccio passare sempre, no, no, io ho ottimi rapporti a destra, a sinistra e al centro, quello che conta per me è la persona, adesso sono stati nominati due sottosegretari, uno di Forza Italia e uno di Fratelli Italia che conosco da tanto tempo, gli ho fatto gli auguri in diretta, conta la persona. E in questo la persona lascia un segno anche nel tuo modo di interloquire, nel senso che se tu hai davanti qualcuno in cui ti ritrovi, forse riesci meglio a far emergere il suo pensiero. Sì, riesco ad avere più, sì, allora io cerco di non fare mai amicizia, un'amicizia tipo di uscire insieme, andare a mangiare la pizza, certi miei colleghi lo fanno, io non l'ho mai voluto fare, perché se fai amicizia con un politico, dopo diventa più difficile fargli le domande ed essere obiettivo e fare magari le domande scomode. magari appunto mi sento con qualcuno, ci facciamo gli auguri, però frequentarli mai, ma è una scelta che ho fatto e che continuo a mantenere, mi hanno invitato a duemila cocktail, duemila cene, aperitivi, ma non vado a quelli di nessuno, proprio per quello che ho detto, sennò diventa poi difficile se sei amico a chiedere qualcosa di scopo. E allora, sempre rimanendo in questo tema che è interessante, il tuo osservatorio sulla realtà politica che evolve, ci sono dei giovani che si stanno imponendo piano piano nel panorama, oppure è difficile per un giovane oggi introdursi in questo mondo particolare che è quello della politica, dell'amministrazione pubblica e quindi far valere anche le proprie capacità. No, ce ne sono, adesso non voglio fare nomi, però ci sono dei consiglieri comunali a Milano, sia di destra, sia di sinistra, sia della Lega, sto pensando, se volete faccio qualche nome, cioè Bestetti di Forza Italia, Verri, Piscina della Lega, Dice Bottelli, Naum, sono tutti giovani che secondo me hanno anche delle buone capacità e stanno lavorando bene, si impegnano. E il fatto di averli qui in televisione, pensi che sia un apporto che la televisione dà loro o che noi come televisione riceviamo dalla politica? Credo che sia uno scambio, loro ci guadagnano perché in televisione hanno un'ottima platea e noi abbiamo della gente brava con cui discutere delle tematiche di attualità. No, è uno scambio, infatti fa piacere entrambi. Ecco, quando io vedo che qualcuno fa fatica a venire in tv non lo inseguo, questa è una mia caratteristica, cioè se non vuoi venire stai a casa tua. Certo, ognuno può dare quello che ha evidentemente anche in questo campo. Cioè se ha voglia di venire bene, se no nella vita in generale io non inseguo nessuno. E lasciando da parte un po' la politica, che cosa ti piacerebbe se riuscisse a fare in televisione? Cioè a parte il talk show, l'approfondimento, quali tematiche pensi che possano essere interessanti e che tu senti tue da portare a un pubblico che ci può ascoltare? A me piacerebbe fare un programma, adesso così lo dico in diretta, un programma sugli animali. Perché non so se leggevo che mi sembra che quasi il 70% degli italiani hanno un animale da compagnia, gatti o cani fondamentalmente. E secondo me fare un programma in cui si spiega come gestire il cane e il gatto in casa, credo che sarebbe interessante. Ne fanno un po', però ecco, questo potrebbe essere una cosa che mi piacerebbe. Forse ancora di più, se interpreto bene quello che tu vuoi dire, non soltanto come trattare l'amico cane e gatto, ma forse come avere un rapporto interessante con quel piccolo dono che hai ricevuto in casa che è un cane e un gatto. Sì, perché secondo me sei, in base a come ti comporti, anche coi figli è così, non sempre quello che gli dai ricevi. Però è chiaro che più metti amore, cura, interesse in un cane o in un gatto, ma penso anche, io bambini non ne ho, però penso che sia anche quello, che sia anche quelli così, più ricevi. E quindi se prendi un animale, secondo me poi gli devi dare tanto, ma ricevi, è questo che mi piacerebbe insegnare e spiegare, che se dai ricevi e quindi non ti senti mai solo, questo è così. Per chi ha un animale, un cane o un gatto lo sa. Bene, ancora qualche approfondimento proprio in questa direzione, a parte un programma che è conosciuto come Linea d'Ombra che ha ricevuto anche dei premi. Ah sì, abbiamo preso l'ambrogino d'oro. Ecco, quale altro programma vuoi sottolineare della tua trascorso o anche presente televisivo che ti identifica bene? A me piace moltissimo il programma che faccio con la collega Stefania Cattaneo che si intitola Dentro l'armadio, che è un programma che abbiamo inventato noi praticamente, in cui parliamo di moda alla portata di tutti. Si intitola Dentro l'armadio perché per vedere cosa c'è ogni volta dentro l'armadio e diamo dei consigli per le donne normali, perché quando si parla di moda, di alta moda, vediamo sempre queste sfilate con queste ragazze meravigliose, con questi vestiti assurdi che mai nessuno di noi metterebbe. Allora noi vogliamo prendere le tendenze della moda e trasformarle in moda per tutti. La moda alla portata di tutti. Ci divertiamo molto, il programma secondo me è utile per chi ci guarda e sto ricevendo anche molte segnalazioni di gente che sui social dice che lo guarda, che aspetta di guardarlo. Quindi questo a me mi diverte molto. Un ultimo passaggio un po' delicato perché affrontando questa tematica siamo ascoltati attorno a noi. C'è la televisione che si vede, nel senso che noi siamo davanti alle telecamere, c'è la televisione che non si vede, cioè tutto quel sistema di tecnici, di amministratori, di produttori che sono attorno alle telecamere ma di solito sono dietro. Come hai costruito un rapporto con questa realtà e che apporto dà alla televisione, a quello che tu sai fare, una buona relazione con tutto questo intorno televisivo? No, è fondamentale perché se si va tutti d'accordo, è anche il solito discorso, torniamo al concetto dell'empatia, anche lì a me piacerebbe avere l'empatia con tutti. Non si può per i motivi che ho detto prima, però è chiaro che se c'è sintonia anche con le persone non giornalisti, le cose vengono meglio, ma questo è ovvio. Poi è chiaro che ci sono anche dei caratteri che si pigliano di più e caratteri che si pigliano di meno, ma questo in tutto non è solo nel lavoro, è anche con i vicini di casa, ho il vicino di casa a destra con cui vado d'accordo di più di quella a sinistra. Però il mio sogno sarebbe andare sempre tutti d'accordo, sorridersi sempre tutti, però mi rendo conto che non si può purtroppo. Forse l'aspetto che vorresti sottolineare della televisione, che è più nascosto, ma secondo te più indispensabile, più importante, qual è? Beh, che funzionino le cose, devono funzionare, perché quando, non so, i ritardi, le cose che non vanno, cioè la cosa più importante è che anche quando non funzionano le cose bisogna rimboccarsi le maniche e farle funzionare, cioè come posso dire, la forza di volontà, ecco la forza di volontà è la cosa fondamentale. Dopo un po' di anni a chi fa questo mestiere magari manca un po' di voglia, però per far riuscire le cose credo che sia fondamentale continuare ad averle, ecco io penso di averne ancora, poi anche se sono tanti anni che faccio questo lavoro, però se ti passa la voglia devi cambiare mestiere, cioè questo secondo me è il lavoro più bello del mondo, infatti io non capisco chi si lamenta a volte, perché io posso capire uno che fa il muratore che si lamenta, oppure uno che fa l'impiegato che tutti i giorni fa le stesse cose, ma il nostro è un lavoro bellissimo, quindi chi si lamenta, secondo me deve andarsene, deve cambiare lavoro, cioè bisogna farlo con passione, se no non vale la pena. E soprattutto la creatività che è messa in gioco. Passione e creatività è forza di volontà e capacità di superare gli ostacoli, se si rompe qualcosa andiamo avanti, cioè non fermarsi al primo ostacolo, ecco questo, manca un ospite, va bene, lo sostituisco, se no andiamo avanti. Quindi possiamo dire una visione positiva che tu hai nella realtà che vivi, nella realtà della televisione e tu cerchi di portare avanti questa forza positiva che poi ti fa superare anche i problemi. E ci provo, poi ogni tanto ho i momenti down pure io, siamo umani. E quando sei down cosa fai davanti alla telecamera? No, dalla telecamera non se ne accorge nessuno. Io ho avuto un periodo nella vita in cui avevo dei problemi personali e mi ricordo che quando andavo in onda ero felice, cioè era come, passami il termine, che fossi sotto effetto di un anestetico, perché quando la lucina rossa è accesa io dovevo fare altre, non pensavo ai miei problemi. E mi ricordo ancora adesso la sensazione di quando si spegneva la luce e dicevo mamma mia. Devi tornare in una realtà più difficile. Sì, devo tornare in una realtà e la televisione lì mi salvava perché era una droga, perché in quel momento lì io ero a posto, quindi per carità. Quindi è un bel lavoro da tenere perché ti tiene in piedi bene, ti dà la forza. E allora che cosa chiedi e cosa auguri al pubblico che ci sta vedendo e a volte è interessato proprio a capire anche chi lo intrattiene giorno per giorno, chi lo informa, chi lo forma. Che messaggio vuoi lasciare? Ma vorrei, veniamo da periodi brutti, periodo della pandemia che è stato un periodo triste, difficile, faticoso per tanti noi. Vorrei che passare un messaggio di serenità, insomma che le cose migliorino. Adesso purtroppo c'è la crisi della guerra, l'economia che ha dei problemi, però vorrei passare un messaggio di serenità, guardare avanti in maniera più positiva possibile. Perché insomma la vita è breve, è imprevedibile perché può sempre succedere purtroppo qualcosa di brutto. Quindi finché le cose vanno bene bisogna cercare di stare bene e di stare tranquilli, di stare sereni. Quindi un bel sorriso e poi saper affrontare le cose con gioia. Sì, 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 assolutamente, con gioia e con serenità perché ripeto, siamo qui, cerchiamo di stare il meglio possibile, di non crearci noi problemi che purtroppo arrivano da soli. E questo è il bel messaggio che ci lascia Adriana Santacroce che rivedremo tante volte. Speriamo, grazie. Grazie Adriana.